Ciao ragazzi, io sono Zaccaria e ho frequentato il corso Costruzioni e Menti Territorio, meglio conosciuto anche come Corso per Geometri, presso il Baruffi di CEO. Il corso, diciamo, è organizzato essenzialmente in modo tale da offrirvi una buona preparazione sia in ambito legislativo, che comunque si cela, diciamo, in un certo senso dietro a quello che si presenta essere il mondo dell'edilizia, sia a trasmettervi delle ottime e importantissime nozioni che vi permetteranno di diventare, in un certo senso, dei maestri nell'utilizzo dei vari programmi e software che comunque vengono largamente e quotidianamente impiegati da chi tratta l'edilizia. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, vi posso assicurare che all'interno delle mure del Baruffi troverete il personale sempre disposto a venirvi incontro e ad aiutarvi, a sostenervi, a risolvere problematiche di qualsiasi tipo, e parlo di professori, segretari e anche appunto Bidelli. Sono stato rappresentante anche di istituto durante il quinto anno di questo mio percorso e vi posso garantire che anche in questa occasione ho ammirato l'innovazione che comunque si respira all'interno di questa scuola e la voce che comunque si cerca di dare a quello che è il volere, diciamo, degli studenti in un certo senso. Parlando sempre di innovazione, vi ricordo che, e anche qui ho avuto la possibilità, l'opportunità, meglio, e la fortuna di vivere sulla mia pelle di nuovo, vi ricordo che il Baruffi annualmente eroga in collaborazione con il Banco Azzualio, diceva, e l'Associazione di Intercultura una borsa di studio che una volta vinta vi permetterà di frequentare il quarto anno nella scuola superiore statunitense e di vivere così un'esperienza che fidatevi di me e vi porterete dietro tutta la vita e che vi cambierà sicuramente.